Io non godo perché arriva una morte o una malattia, voglio che veramente, veramente e per la terza volta veramente che loro stiano bene. A me mi interessa i miei soldi, voglio i miei soldi. Tino, 74 anni di Padova, è stato il centralinista della Banca Popolare di Vicenza per 40 anni. Da quando ha 9 anni soffre di una malattia degenerativa alla vista che lo ha fatto diventare cieco. Qui conosce tutti e anche lui ha deciso di acquistare azioni della Popolare di Vicenza. E caspita, conosco sì anche tutti i direttori dell'agenzia, anche i miei amici, quelli che mi ha consigliato di acquistare queste azioni tanto serene e tranquille. Fidati Tino, le abbiamo comprate anche noi. Quattrocento e una azione, avevano il valore di sessantadue euro e mezzo. E sessantadue euro e mezzo, lei lo moltiplica per tremila quattrocento e uno, viene fuori duecento dodicimila cinquecentosessantadue euro e mezzo. Che adesso cosa sono? Dieci centesimi. Oggi Tino ha perso tutto, ha scritto ai politici ai vertici della banca, nessuna risposta. Anche noi li abbiamo cercati e ci hanno risposto così. Se sei dipendente della banca, non mi sento assolutamente il dovere di poter rispondere a questa domanda, anche per un discorso ovviamente di privacy. E io dico grazie signore che ti hai messo sta tranquillità, è una roba enorme perché sarebbe andare fuori di testa.